Presidente Laspina dell'Unione Proloco Italiana, siamo qua a Catanzaro per la firma del protocollo d'intesa tra UMPLI nazionale e Lions Club. Sì, un'importante occasione per stringere i rapporti tra il mondo delle proloco, quindi l'Unione Nazionale Proloco d'Italia e i Lions, qui tanto voluti dal Presidente regionale Pippo Capellupo che in questa occasione si divide tra le due presidenze ma che ha voluto fortemente questo incontro tra due grandi organizzazioni, un modo per mettere a sistema le rispettive organizzazioni ma per dare più forza a tantissimi progetti che possono essere organizzati e che possono magari creare opportunità nelle rispettive località o perlomeno creare occasioni e magari eventi che magari possono coinvolgere entrambe le realtà. Si avvia un percorso che non vuole essere assolutamente un percorso ristretto ad alcune realtà ma che comprenderanno tutte le realtà locali di Sicilia, Calabria e di tutto il meridione d'Italia e che metteranno veramente a sistema tutte le nostre associate, sono veramente tantissime e che apre anche lo spazio per altri accordi a livello nazionale con i rispettivi club sia Lions che le nostre associate Umbi. Quindi dalla Calabria parte una bellissima iniziativa che poi pian piano struttureremo in tutta Italia. Grazie 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 Grazie.